Buongiorno o buonasera, adopero tutte e due le formule di saluto perché non so a che ora mi vedrete. Mi chiamo Giuseppe Patota e insegno grammatica italiana, didattica dell'italiano e storia e geografia dell'italiano nel corso di laurea in lingue della sede di Arezzo. Storia e geografia dell'italiano e proprio per questo ho pensato di dedicare questo incontro di oggi a provare a rispondere a questa domanda, quando, dove e come è nato l'italiano. Si dice comunemente che l'italiano deriva dal latino e questa affermazione, questa affermazione che dominiamo tutti, così lineare da apparire quasi ovvia, merita di essere un po' approfondita, precisata e almeno in parte pensate corretta. Nel contesto in cui io ho adoperato questo verbo derivare, ecco, questo verbo non significa nascere ma avere origine o meglio ancora continuare. Le lingue infatti non sono organismi biologici, per loro non si può parlare di nascita o di morte in senso biologico ma solo in senso figurato o storico. Il latino certo può essere considerato la lingua madre dell'italiano e delle altre lingue neolatine o romanze, ma appunto soltanto in senso figurato. L'italiano non nasce dal latino, l'italiano continua il latino, c'è una tradizione ininterrotta che lega la lingua di Roma antica alla lingua di Roma moderna, dai tempi remoti della fondazione fino ai giorni nostri. Insomma possiamo dire che l'italiano è il latino adoperato oggi in Italia, esattamente come il portoghese, lo spagnolo e il francese sono i latini adoperati oggi in Portogallo, in parte della Spagna e in Francia. Nella mia frase inoltre, in quella che vi ho fatto sentire prima, l'italiano deriva dal latino, l'uso della parola latino nuda e cruda, senza precisazioni e specificazioni, è generico, addirittura fuorbiante. Da quale latino deriva l'italiano? Dico questo perché il latino, come ogni altra lingua antica o moderna, non fu un blocco monolitico ma un oggetto vario, complesso. Possiamo arrivare a dire che non è esistito un solo latino, sono esistiti tanti latini nati dalla combinazione di almeno quattro variabili, il tempo, lo spazio, lo stile e la condizione socioculturale degli utenti. Allora cominciamo dalla prima variabile, il tempo. Il latino fu una lingua di tradizione ultramillenaria e cambiò nel corso del tempo, esattamente come l'italiano di oggi è inevitabilmente diverso da quello adoperato 15, 50 o 150 anni fa, così il latino arcaico del quinto o del quarto secolo avanti Cristo, relativamente vicino al tempo della fondazione di Roma, fu diverso dal latino classico della seconda metà del primo secolo avanti Cristo della prima metà del primo secolo dopo Cristo, insomma l'età di Cicerone, di Virgilio, di Orazio, Tito Lidio, i grandi nomi della letteratura latina. Veniamo alla seconda variabile, lo spazio. Oltre che nel tempo il latino cambiò nello spazio e questo cambiare nello spazio è il destino di tutte quante le lingue vive. L'esperienza quotidiana, l'esperienza comune che cosa ci mostra? Ci mostra che l'italiano adoperato a Milano è diverso dall'italiano adoperato a Firenze, a Napoli o a Palermo o a Siena o ad Arezzo e che queste differenze investono non soltanto l'intonazione o la pronuncia ma anche il lessico, anche la grammatica, perfino la sintassi. La stessa cosa accadde tanto tempo fa al latino, una lingua che superò i confini di un intero continente. Insomma ricordiamo che nel momento di massima espansione del dominio romano, agli inizi del secondo secolo dopo Cristo, il latino era la lingua che circolava su un territorio vastissimo che andava a occidente fino alle coste atlantiche dell'Europa e dall'altra parte a oriente fino al fiume Reno e oltre il Danubio. Al di là del Danubio fu conquistata la Dacia, l'attuale Romania. In Romania si parla una lingua romanza, una lingua neolatina, il rumeno. Dalle coste meridionali dell'Inghilterra a nord fino a quelle settentrionali dell'Africa a sud. Ovviamente questa lingua non era, non poteva essere un blocco uniforme. Non è immaginabile che il latino adoperato in Spagna allora fosse identico al latino adoperato in Italia o in Francia allora, a migliaia di chilometri di distanza. Infatti le testimonianze linguistiche di cui disponiamo documentano l'esistenza di più varietà di latino sull'asse orizzontale dello spazio, ecco lo definisco orizzontale esattamente come definirei verticale l'asse del tempo. Terza variabile, lo stile. Oltre che nel tempo e nello spazio il latino fu vario nello stile. Insomma non si parla e non si scrive allo stesso modo, nessuno parla e scrive sempre allo stesso modo. Una lingua può cambiare di tono o di livello a seconda della situazione in cui la adoperiamo. L'italiano che noi stessi adoperiamo in situazioni formali è diverso da quello che adoperiamo parlando in famiglia o con gli amici. La stessa cosa è stata anche per il latino, come dimostra un'ampia documentazione al riguardo. La scelta di stili diversi a seconda delle occasioni e dei contesti riguardò tutti, ecco non dovete pensare che abbia riguardato soltanto le persone di bassa estrazione socioculturale, tanto per fare un nome riguardò Cicerone. Cicerone non soltanto scriveva in un modo e parlava in un altro, ma non scriveva sempre allo stesso modo. E faccio il nome di Cicerone perché Cicerone è considerato uno dei più illustri ed eleganti, se non il più illustre ed elegante, dei prosatori latini. Insomma Cicerone non adoperava lo stesso latino quando scriveva, preparava le sue orazioni, quando componeva opere filosofiche e quando invece scriveva le lettere agli amici e ai parenti. In questo caso adoperava un latino meno sorvegliato, fatto anche di termini e di espressioni familiari. E di questa diversità, della diversità di questi due latini da lui stesso adoperati, Cicerone era perfettamente consapevole. In una data che non è stato possibile stabilire, in una delle tante lettere indirizzate ad familiares, così vengono indicate queste lettere, i familiares sono i parenti e gli amici, scrive a uno di questi suoi amici, vi traduco a memoria il testo latino e dice ma come ti sembro nelle lettere? Non ti pare che io mi rivolga a te con un linguaggio plebeo? Perché non ci si esprime sempre allo stesso modo, ecco appunto, non ci si esprime sempre allo stesso modo. È arrivato il momento di tirare le somme. Fra le diverse varietà di latino che, come abbiamo visto, si sono incrociate e sovrapposte nel tempo, nello spazio, nelle abitudini e anche nelle scelte espressive delle singole persone e nei diversi contesti sociali spiccano per importanza storica due varietà di latino, due latini che convenzionalmente indichiamo come latino classico e latino volgare. Ricordate bene queste due parole, ricordate bene questi due aggettivi, classico e volgare. Se dovessi sostituire con altre due parole classico e volgare dovrei sostituirli con queste due parole, classico dovrei sostituirlo, posso sostituirlo con scritto, volgare posso sostituirlo con parlato. Il latino classico che poi sostanzialmente è il latino che si continua a insegnare oggi nelle scuole e nelle università è una realtà facilmente individuabile. È il latino scritto, così come venne adoperato soprattutto nelle opere letterarie della cosiddetta Età Aurea di Roma, il periodo che va grosso modo dal 50 avanti Cristo al 50 dopo Cristo. Questo latino scritto inevitabilmente è rimasto sostanzialmente identico a se stesso nel corso della storia. Una lingua scritta, espressione dei ceti socioculturalmente più elevati. Che cosa vuol dire quel classico? Ma insomma per i romani questo latino era un latino di prima classe. La società romana era divisa in classi, sicché come i cittadini più ricchi e potenti erano esponenti della prima classe sociale, così gli scrittori più eleganti furono detti classici, cioè scrittori di prima classe. Il latino volgare, scusate, diversamente dal latino classico fu una realtà molto più varia e complessa. E qui preciso di nuovo che il termine volgare ha un valore convenzionale. Con questa parola non indico un latino basso, usato soltanto dalla parte più povera e incolta della popolazione, quella che si indicava come il volgo, ma il latino parlato in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni circostanza, da ogni gruppo sociale della latinità. Insomma il latino volgare fu la lingua parlata nei tempi antichi della fondazione di Roma e nella tarda età imperiale. La lingua parlata a Roma, nella capitale ma anche nelle zone periferiche dell'immenso impero, fu la lingua parlata dai ricchi e dai poveri, dagli analfabeti e dagli intellettuali e fu fortemente diversificata nel suo spazio smisurato. Nel corso del tempo, per varie ragioni che non starò qui a dirvi oggi, questo latino, questo latino parlato, questo latino volgare, prevalse per uso, importanza e diffusione sull'altro, sul latino classico. Proprio da questa lingua stratificata e multiforme ebbero origine le tante lingue d'Europa che indichiamo come romanze o neolatine. Quali sono queste lingue? Queste lingue sono il francese, che in origine era il dialetto dell'Ile de France e di Parigi. Il franco provenzale, parlato nelle regioni francesi di Grenoble e Lione, in Savoie e nella Svizzera occidentale, poi il provenzale, parlato nella regione francese della Provenza, il catalano, la lingua della Catalogna, lo spagnolo, la lingua della regione spagnola della Castiglia, il portoghese, il sardo, il ladino, parlato in una parte della Svizzera e nella zona delle Dolomiti, il friulano, il rumeno, sorto in Transilvania sulla base del dialetto della Valacchia, il rumeno è una lingua neolatina e naturalmente l'italiano, alla cui origine c'è sostanzialmente il dialetto della Firenze del Trecento, la lingua parlata a Firenze nel Trecento. Il processo di trasformazione che dal latino condusse ai vari volgari romanzi si concluse nell'VIII secolo dopo Cristo. Allora dobbiamo dire è a quest'epoca che risale la data di nascita dell'italiano? No, la risposta è no. Per quello che vi ho detto prima, fra latino e lingue romanze, fra latino e italiano, non c'è interruzione, le trasformazioni sono lente e quasi non percepibili, cioè non c'è un momento in cui muore il latino e un momento in cui nasce l'italiano. Per secoli la gente parlò una lingua molto lontana dal latino colto del primo secolo avanti Cristo, ma considerava la lingua che parlava latino a tutti gli effetti. Ma allora quando nacque l'italiano, quando nacque non biologicamente ma storicamente, nacque quando i parlanti ebbero la consapevolezza che lo stavano usando al posto del latino, quando si resero conto del fatto che stavano adoperando una lingua nuova, una lingua altra rispetto al latino, anche se non l'avevano chiamata non soltanto italiano, ma proprio non le avevano dato un nuovo nome. In quale documento possiamo cogliere questa consapevolezza linguistica, con la consapevolezza di parlare una nuova lingua? Qui devo dirvi ragazzi, le cose si complicano perché gli studiosi non concordano sul documento da scegliere. Secondo alcuni il documento è individuabile nel cosiddetto indovinello veronese, indovinello perché era un breve enigma dedicato all'atto della scrittura risalente grosso modo al 760 d.C. Veronese perché dopo un lungo percorso dalla Spagna arrivò fino a Verona, alla città di Verona e oggi è tuttora conservato nella splendida biblioteca capitolare di Verona. Secondo però molti studiosi, sono la maggioranza, questo indovinello veronese non può essere considerato l'atto di nascita dell'italiano perché chi lo scrisse non pensava di aver adoperato una lingua diversa dal latino, pensava con tutta probabilità di aver adoperato un latino campagnolo. Il primo documento che per consenso comune registra la nascita, la presenza di questa consapevolezza della diversità linguistica fra latino e italiano è il cosiddetto placito di Capua del 960 d.C. e così vi ho detto sia dove, diciamo così, nacque Capua, sia quando 960 d.C. Ma che vuol dire la parola placito? Placito vuol dire sentenza nel linguaggio giuridico medievale e infatti questo placito di Capua non è altro che il verbale di un processo, guardate ve lo faccio anche vedere, ve ne faccio anche vedere una riproduzione naturalmente che ho in casa, l'ho bella e incorniciata, l'ho comprata nella libreria dell'Abbazia di Monte Cassino, nel negozio di ricordi dell'Abbazia di Monte Cassino dove vi suggerisco davvero di andare a fare una gita. Allora che cosa era questo verbale? Dunque verbale di un processo che si consumò per l'appunto a Capua nel marzo del 960 d.C. Quale fu la causa discussa in questo processo? Devo raccontarvelo. Nel marzo 960 d.C. si presentarono dinanzi al giudice di Capua che si chiamava Arechisi, da una parte l'Abbate di Monte Cassino, l'Abbazia di Monte Cassino era un'istituzione religiosa importantissima accompagnato dal suo avvocato, o meglio dall'avvocato del monastero. Dall'altra dinanzi al giudice si presentò un privato cittadino, si chiamava Rodelgrimo, ma questo è poco importante se non per dire che avevano nomi veramente diversi dai nostri, originario di una città di lì vicino, Aquino, il quale è Rodelgrimo che cosa fece? Consegnò al giudice un promemoria in cui cercava di dimostrare che alcune terre che un privato cittadino, suo parente, aveva lasciato, si diceva che avesse lasciato in eredità al ministero, in realtà non le aveva affatto lasciate e quelle terre erano sue in quanto legittimo erede diretto. L'Abbate Aligerno e l'avvocato sostennero il contrario e sulla base di che cosa lo sostennero? Sulla base di un principio giuridico che allora vigeva nel diritto Longobardo, Capua era amministrata, aveva un'amministrazione regolata dal diritto Longobardo. Questo principio giuridico era noto, è noto perché esiste ancora, sia pure in altri termini, come principio dell'usucapione. Se un individuo, anche una persona giuridica, anche per l'appunto una parte, come il monastero di Monte Cassino, poteva dimostrare che da almeno trent'anni godeva dell'uso di un determinato bene, senza che nessuno ne avesse fatto richiesta, allora quel bene doveva considerarsi suo. Era esattamente quello che era successo all'Abbazia di Monte Cassino. Queste terre da più di trent'anni continuavano ad essere così godute dall'Abbazia, coltivate dall'Abbazia. Allora l'Abbate che cosa fa? Prende, porta con sé, tre testimoni, tre religiosi, che badate in quanto religiosi il latino lo conoscevano bene, i quali dichiarano sotto giuramento che cosa? Dichiarano che quelle terre, quelle terre di cui si sta parlando nella causa, da trent'anni erano, le possedeva, anzi le possedette la parte, cioè l'Abbazia di San Benedetto. Voglio farvi vedere proprio una scritta particolare che ho qui riportato e che compare, che compare, guardate, in piccolo, nel verbale di cui vi ho fatto vedere prima la riproduzione. Per quattro volte, per quattro volte, una volta perché quella formula la pronuncia il giudice, e tre volte perché la pronunciano i testimoni portati dall'Abbate, nel verbale del processo c'è scritta questa formula. Sulla parte di sopra è la scrittura, come vedete la grafia originale, sotto è, insomma, l'ho trascritta per renderla più facilmente intelligibile. Sao, coche le terre, perché le defini che chi contene trent'anni le possette parte santi beneditti, che vuol dire sostanzialmente, so che quelle terre, secondo quei confini, secondo quei limiti che sono indicati qui in questo documento, le possedette per trent'anni la parte, cioè il convento di San Benedetto. Allora che cosa succede? Succede questo, che durante il processo a questi religiosi viene chiesto di dichiarare sotto giuramento, di testimoniare sotto giuramento che quelle terre non erano di questo privato cittadino che ne rivendicava il possesso per eredità, perché da più di trent'anni erano in un soffrutto, erano godute dalla parte di San Benedetto. Successe che l'abbazia vinse la causa perché il giudice diede ragione all'abbate, diede ragione all'abbate perché nessuna delle parole scelte dal giudice e pronunciata dai testimoni era stata pronunciata a caso. Sono tutte parole che hanno una valenza giuridica, quel sao equivale al nostro so e in questa dichiarazione significa so per conoscenza certa e quindi lo posso giurare, sao co che le terre, quel co proviene da una parola latina che è quad e che equivale possiamo dire al nostro attuale che. Che le terre sono i terreni identificati mediante i loro confini. È molto evidente, dunque quella parola chelle e quella parola terre ve lo dico ma non c'è bisogno che voi sappiate il latino. Vi dico subito che alla base di queste due parole italiane c'è questa sequenza latina, ecum illam terras, diciamo così. Guardate che anche oggi nei dialetti meridionali troviamo la forma chillo e chella e chelle per intenderci, no? Che le terre quindi sono i terreni identificati mediante i confini, i quali sono indicati chi, cioè nella memoria che ne contiene la descrizione. Pensate che nel momento del giuramento sicuramente i testimoni dovevano formulare quella testimonianza giurata, pronunciarla tenendo in mano la carta in cui erano indicati quei terreni. D'accordo? La parte dice saoco che le terre perché le fini che chi contene 30 anni le possette parte Santi Beneditti. La parte Santi Beneditti è il monastero dell'ordine di San Benedetto situato sulla cima di Monte Cassino. Qui è qualificato come parte, come parte, oggi diremmo come parte in causa e questa parte possette le terre in questione, le possette, attenzione, non nel senso che erano di sua proprietà, ma nel senso che ne aveva goduto l'uso, erano una proprietà di fatto. E quindi il giudice, accertata la verità, riconobbe i diritti del monastero e l'abbate vinse la causa. Attenzione, il processo si svolse interamente in latino e in quella pergamena che vi ho fatto vedere prima, il verbale del processo è tutto in lingua latina. Però per quattro volte, proprio fisicamente si vede questa distinzione, all'interno di questo verbale in lingua latina per quattro volte compare quella formula in italiano che vi ho già ripetuto fin troppe volte. Perché quella formula compare e viene detta in italiano? Perché il processo è pubblico e non tutti erano sufficientemente colti, la maggior parte delle persone naturalmente allora erano analfabete, non tutti erano letterati, non tutti conoscevano il latino. Dunque quella formula, quella testimonianza doveva essere chiara a tutti, ai colti e agli incolti, ai letterati e ai religiosi e al giudice e al notaio che conoscevano in latino, ma anche alle persone comuni che il latino non conoscevano. Vedete allora che in questo caso quella coscienza linguistica della diversità fra latino e volgare è molto evidente e risulta anche fisicamente all'interno di questo testo, tutto in latino, tranne che per queste quattro formule. Ecco, vorrei segnalare ancora un paio di cose e cioè la particolare modernità di questo testo e qui dico una cosa che sicuramente farà molto piacere ai ragazzi perché i ragazzi spesso si sentono dire che la colpa del fatto che l'italiano oggi è decaduto e è in via di dissoluzione e disfacimento dipende non soltanto dal fatto che loro non lo studiano e qui se non lo studiate fate molto male perché dovete studiare l'italiano, ma soprattutto per il fatto che fate due cose sostanzialmente. La prima è che usate il k al posto del ch e la seconda è che adoperate la x al posto di scrivere per. Ecco, allora però vorrei farvi vedere una cosa che vi farà tirare un sospiro di sollievo perché in questo testo, in questo testo che rappresenta l'atto di nascita dell'italiano noi vediamo che il suono che, quella che in linguine fonetica si chiama occlusiva velare sorda il suono che è rappresentato solo una volta dalla c, lo vedete nell'ultima parola della prima riga, contene per il resto è sempre rappresentato dal k. Aggiungo anche che anche in questo testo compaiono delle abbreviazioni e una di queste abbreviazioni è proprio la parola per che abitualmente gli amanuensi scrivevano abbreviandola Questo perché? Perché le abbreviazioni esistono da che? Scrittura e scrittura. Ragazzi, naturalmente non ho voluto dire con questo che adesso nei vostri testi scolastici, nei riassunti o nelle relazioni o nella sintesi di matematica dovete adoperare il k al posto del ch perché finché le convenzioni grafiche dell'italiano richiederanno l'uso del ch dovremo continuare ad adoperare il ch ma vi dico sinceramente che se continuate ad adoperare il k e anche se continuate, o la k si può dire in tutti e due modi o anche se continuate ad adoperare il per, la x, al posto del per, nelle vostre scritture private, quindi negli appunti e anche via negli sms non fate proprio nulla di male, però mi raccomando non fatelo nei testi di destinazione pubblica.